Musica Ciao a tutti ragazzi, qui oggi è Snakeino E sono qui con questo video, come potete vedere Anzi no, perchè mi scordo sempre Che ci sta il bel faccione di Shackle che lo copre Comunque E' l'una e mezza del 7 settembre E sto facendo gli scritti del mese, perchè il 7 settembre? Perchè ogni giorno Ho controllato Se potevo utilizzare questa funzione dell'iscritto del mese Ma questo mese Youtube era bugato E quindi mi dava Dei valori sballati Ovvero sia non mi segnava determinati iscritti E cose del genere Insomma mi segnava il coinvolgimento Tutto basso Comunque ai iscritti che vedo sempre che ci sono Nei commenti e cose del genere Non li menzionava proprio Voi direte, ma sei sicuro che era sballato? Si, per un semplice fatto Ci sono dei canali grossi che posso controllare Tramite appunto la funzione non coinvolgimento Ma bensì iscritti Che sono i canali più grossi che mi seguono A me E che sono quello di Lego Quello degli Anub Channel O altri Che so per certo che C'è l'iscrizione Di conseguenza se non ci sta la loro iscrizione Potrebbe esserci qualche problema Faccio ulteriori verifiche E appunto ci sono dei problemi Di conseguenza non era il caso di Prendere l'iscritto del mese questo mese E l'avrei preso Il mese successivo ne avrei presi due Come avevo scritto su Facebook Vi ricordo di seguirmi anche su Facebook Per essere aggiornati su tutto quello che dico Faccio O Minchiate varie Soltanto che Mi sembrava strano questa cosa Che fosse ancora bugato Allora ogni giorno ho controllato E oggi 7 settembre All'una e mezza di notte E ho notato che Si è sbuggato Nel senso Ora funziona tutto bene Ho fatto le mie verifiche E ho trovato finalmente Chi è l'iscritto del mese Di agosto Siamo a settembre Però è di agosto A fine settembre Farò quello di settembre Giustamente E quindi Andiamo subito ad estrarre L'iscritto Cioè ad estrarre A far vedere Chi è l'iscritto del mese Del mese di agosto E andiamo subito a mandare un messaggio L'iscritto del mese di agosto È Xrefer E come sempre Ora vi farò vedere un attimino La classifica Per farvi vedere un pochino Chi si è avvicinato Ad essere l'iscritto del mese E chi un po' meno Io andrò un po' in basso adesso Più o meno velocemente Poi metterete voi pausa O vedrete insomma voi Se ci siete Andrò fino alla fine Della prima pagina E poi ritornerò su A mandare un messaggio Comunque Questo ragazzo È un nuovo iscritto del mese Non è mai stato iscritto del mese Quindi sicuramente Lo aggiungerò Ok Andiamo di nuovo su Eccolo qui Andiamo in un messaggio privato Come sempre Ovviamente io ti manderò un messaggio Aspetta non so Usavo sta funzione? No Mi sa che andavo sul suo profilo Se andavo sul suo profilo Io ti mando un messaggio privato Allora io come sempre Manderò un messaggio privato A ragazzo Però Nulla vieta che se Xrefer vedesse anche questo video Mi può direttamente Mandare il suo nick Tra i commenti Ovviamente lo aggiungerò lo stesso O mi può anche rispondere privatamente Comunque Ciao zio Sei il nuovo iscritto del mese Dammi il tuo nick di lol Che ti addo il prima Prima possibile Invia Ok Il messaggio è stato inviato L'iscritto del mese è stato contattato E fatto vedere Quindi vi rimando al prossimo video Sempre qui sul mio canale E niente Seguitemi anche sui social Lasciate tanti pollici in su Se vi piacciono i miei video Le mie iniziative Tipo questa qui Che mi sembra che è abbastanza singolare Cioè non vedo farlo a molti Comunque Fatemi sapere caso Ne pensate E ciao ciao Grazie a tutti